ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco ltf a cosa serve ltf a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 è commercializzato in italia dall'azienda offealt spa informazioni commerciali titolare italdavice srl concessionario offealt spa categoria di appartenenza dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 forma farmaceutica collirio confezioni ltf gocce oculari 8 ml indicazioni soluzione oftalmica lubricante indicata nella secchezza oculare e nelle sintomatologie legate agli stati infiammatori della superficie oculare utile durante e dopo l'esposizione prolungata ai raggi solari la permanenza in ambienti climatizzati l'utilizzo prolungato di schermi digitali il contatto con sostanze detergenti modalità d'uso tenere il flacone a testa in già tra il pollice e le altre dita abbassare la palpebra inferiore e posizionare la punta del flacone vicino all'occhio senza toccare applicare le gocce raccomandate e chiudere gli occhi delicatamente per distribuire il prodotto uniformemente sulla superficie oculare premere il dito sull'angolo interno dell'occhio verso il naso e mantenerlo per uno minuto tenendo l'occhio chiuso descrizione e caratteristiche ltf ha una soluzione oftalmica contenente e promellosa che lubrica idrata la superficie oculare la formulazione contiene anche la lattoferrina una sostanza normalmente presente nel fluido lacrimale che modulando la presenza del ferro contribuisce a inibire la crescita microbica ltf utile in tutti i casi di alterazione del film lacrimale causato dall'esposizione ai raggi solari dal vento dall'aria condizionata e dall'utilizzo di schermi digitali avvertenze in rarissimi casi in pazienti con superficie oculare gravemente danneggiata l'uso di soluzioni oftalmiche contenenti fosfati è stato associato a calcificazione corneale pertanto consultare il proprio specialista prima della somministrazione del prodotto nel caso di cheratopatia a bandelletta o depositi di calcio sulla cornea il prodotto a sterile fino all'apertura evitare il contatto della punta del flacone con gli occhi le superfici circostanti le mani o altre superfici per evitare la contaminazione della soluzione richiudere bene il flacone dopo l'uso non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra in caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico proteggere da fonti di calore e tenere fuori dalla portata dei bambini non ingerire non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione il prodotto deve essere utilizzato entro 30 giorni dall'apertura eliminare eventuale prodotto residuo propriamente nella raccolta differenziata in caso di problemi persistenti consultare il medico oculista non utilizzare il prodotto continuativamente per pia di 30 giorni analisi ingredienti i promellosa lattoferrina n idrossimetil glicinato sodico ed tassale di sodico potassio idrato sodio fosfato monobasico sodio fosfato bibasico sodio cloruro acqua depurata fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato